Apparecchiature per fotoperiodo, radiocollari biper e gabbie per il trasporto del nostro inseparabile ausiliare. Il tutto rigorosamente garantito dai 2 ai 5 anni. Beretti, 30 anni di passione, non si improvvisano. Per informazioni 030 35 80 161 oppure visita il sito www.beretti.it Grazie per la visione! 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 No, no. Si. Almeno che ho visto da qui per... Lo buttate per caso. Ho visto. Bravo. 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 Brava. Per informazioni 030 35 80 161 oppure visita il sito www.beretti.it 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 Grazie a tutti.